andrà tutto bene puntata numero 337 oggi è martedì 30 giugno 2020 e sono le 16 e 37 buon pomeriggio da giochino onorati e da milano alessia monica buon pomeriggio alessia buon pomeriggio a tutti da milano dalla tua abitazione sì 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 perché è smart working in smart working o lavoro agile o lavoro agile alessia intanto vedo due quadri dietro di te molto belli grazie grazie sai pure chi è l'artista oppure no dovrei andare a controllare perché erano dei miei nonni sono una un lascito e alla loro memoria e allora un caro saluto ai nonni di alessia che ti hanno appunto regalato donato due bei quadri veramente molto molto grazie alessia siamo in piena emergenza sanitaria ancora anche se anche se ovviamente gli effetti fortunatamente sono più blandi non stiamo più assistendo a tanti tantissimi ricoveri ma in emergenza sanitaria ci siamo ancora e addirittura si pensa anche che ci sarà una nuova ondata recentemente è stato pubblicato un libro nel quale tu hai fatto un contributo libro dal titolo riflessioni sulla sanità in emergenza è proprio di questi giorni curatori del libro maurizio campagna e serena fausta manzin il tuo articolo di cosa tratta diciamo che il mio articolo è sostanzialmente un capitolo che vuole descrivere banalmente chi fa che cosa partendo dall'unione europea per quanto riguarda in particolare che la tutela della salute quindi è un capitolo che in qualche modo vale sempre soprattutto nella nella prima parte e nei contenuti principali del capitolo in cui appunto analizzo quelle che sono le competenze dell'unione europea e quali sono invece le competenze degli stati membri perché c'è molta confusione c'è stata molta confusione in relazione a questo aspetto e quello che mi preme dall'inizio sottolineare appunto che le competenze sono affidate all'unione europea dagli stati membri direttamente dagli stati membri e sono affidate sulla base del principio di attribuzione quello che gli stati membri non hanno ceduto all'unione europea rimane competenza degli stati membri stessi e in particolare la materia della sanità l'unione europea non ha competenze diciamo esclusive e neanche concorrenti con gli stati membri abbiamo semplicemente le competenze di coordinamento e sostegno ciò vuol dire che per quanto riguarda l'organizzazione e l'assetto del sistema sanitario nazionale ogni stato membro è libero di decidere di organizzarlo e di gestirlo come meglio crede questo è un punto fondamentale un punto di rimente poi per affrontare diciamo le questioni più specifiche riguardanti la pandemia perché appunto l'unione europea anche per quanto riguarda la pandemia l'ha un'epidemia quindi un'emergenza sanitaria a carattere trasfrontaliero come quella che stiamo gestendo con la quale stiamo convivendo da ormai da diversi mesi con la quale andremo a convivere anche nei prossimi non ha potere di legiferare può legiferare invece per quanto riguarda la ricerca e ad esempio prendere decisioni per quanto riguarda la gestione la regolazione dei dispositivi medici per intenderci ma non può emanare degli atti che siano vincolanti per quanto riguarda la gestione tu cura di un'emergenza sanitaria anche questo è molto importante la materia della salute è sicuramente un esempio di amministrazione a rete dove appunto unione stati membri e le amministrazioni nazionali quindi anche gli ospedali le varie asle le ats del caso devono cooperare tra di loro altrimenti il sistema non non funziona unione europea alla quale appartengono 27 stati membri sì barra 28 perché comunque anche il regno unito anche diciamo ancora non è è fuori ma in realtà siamo nel periodo di transizione quindi per quanto riguarda l'emergenza covid dobbiamo ragionare come se l'unione europea fosse ancora 28 stati membri ecco per quanto riguarda appunto la gestione delle emergenze epidemiologiche a carattere trasfrontaliero quindi si considerano le frontiere tra tutti gli stati membri sì dobbiamo considerare appunto che le frontiere stiamo parlando di unione le frontiere interne non non ci sono ma è quello che è accaduto nel momento in cui è stato individuato il cosiddetto paziente lodigiano ovviamente è partito il sistema di segnalazione e si è capito che la questione non era più una questione che riguardava il sistema sanitario nazionale italiano ma che era una questione che poteva interessare anche gli stati membri ed è scattato il cosiddetto sistema di allarme rapido che è previsto in una decisione del 2013 una decisione appunto dove vediamo che l'unione ha dettato delle disposizioni comuni per intervenire in caso di una grave minaccia a carattere appunto trasfrontaliero e questo ha permesso di attivare poi tutti gli altri sistemi sanitari nazionali che in qualche modo hanno guardato all'italia come primo modello a cui ispirarsi perché di fatto è andata così insomma però dall'esperienza italiana poi gli altri sistemi in che modo hanno si sono si sono comportati di conseguenza ecco secondo te c'è una risposta positiva da parte dell'europa oppure ancora no perché se ne sente tanto parlare in questi giorni secondo me c'è anche un po di confusione cioè dobbiamo fare dei dei distinguo allora suggerirei di guardare direttamente sul sito della commissione europea dove viene aggiornato giornalmente quelle che sono quelle che sono le attività che l'unione europea sta mettendo in atto per gestire l'emergenza le ha un po suddivise nei cosiddetti pilastri che piacciono tanto alla dalla comunità economica europea in avanti il primo pilastro riguarda gli interventi per quanto concerne il settore medico posto che ricordando appunto il principio di attribuzione e quanto ci dicono i trattati all'articolo 168 il trattato sul funzionamento dell'unione europea le competenze sono di coordinamento e sostegno però ci sono stati degli interventi come diciamo la gestione di determinate forniture anche attraverso il meccanismo europeo di protezione civile quindi la gestione di determinati dispositivi medici cercando di farli arrivare laddove c'era più bisogno poi c'è un secondo pilastro che inerisce i viaggi e i trasporti quindi la regolazione anche semplifico delle frontiere della possibilità delle persone di circolare liberamente nel territorio dell'unione o no e poi il terzo pilastro che è quello che forse più di tutti interessa ma soprattutto interesserà nei prossimi mesi una volta che l'emergenza sanitaria sarà sempre più controllata ci auguriamo tutti è quello riguardante l'economia ma sono tre cose diverse ovviamente la risposta è integrata e in qualche modo coordinata anche perché ricordiamoci che il trattato stesso sull'unione ci dice e del funzionamento ci dice scusate che si ricerca la salute in tutte le politiche quindi in qualche modo l'idea che si debba operare degli interventi per migliorare la salute della popolazione europea va in qualche modo a lambire tutte le altre altre materie anche laddove la competenza dell'unione è esclusiva o concorrente con gli stati membri quindi la risposta è una risposta che va guardata secondo una diversa ottica a seconda dell'intervento a cui si fa riferimento quindi non va confuso l'intervento sanitario in senso stretto con gli altri tipi di interventi in materia dove ovviamente l'unione può avere più competenze sicuramente qualcosa non ha funzionato anche permettetemi per quanto riguarda la gestione proprio sanitaria laddove probabilmente non ha funzionato ma a partire dagli stati membri nella comunicazione dei dati la polemica relativa al fatto che è vero che i dati vengono trasmessi a livello centrale tramite questo sistema di allarme rapido ma non c'è uniformità su come questi dati vengono elaborati e quindi a loro volta come vengono trasmessi interpretati e gestiti quindi c'è un problema di gestione delle informazioni di coordinamento delle stesse perché sulla base di una corretta gestione delle informazioni poi si possono prendere decisioni più repentine e più mirate puntuali Alessia leggo dal sito dell'Unione Europea la politica dell'Unione Europea in materia di salute intende tutelare e migliorare la salute garantire la parità di accesso a un'assistenza sanitaria moderna ed efficiente per tutti i cittadini europei e coordinare le gravi minacce sanitarie che coinvolgono più di un paese dell'Unione Europea la prevenzione la risposta alle malattie sono due temi centrali per la salute pubblica nell'Unione Europea belle parole bellissime quindi è una parafrasi un po' di quello che ho in qualche modo detto che è quanto è anche espresso l'articolo 35 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quindi c'è un riconosciuto un diretto un diritto di accesso alle cure del cittadino ma vuol dire che ci sono degli ospedali europei io da qualche parte trovo un ospedale europeo no vuol dire che vabbè questo bisogna riferirsi alla direttiva pazienti per cui appunto io posso essere curato in un altro in un altro stato membro ovviamente c'è l'idea di coordinare i sistemi per garantire il più elevato livello possibile di accesso e di qualità delle cure ricevute all'interno all'interno dei paesi dell'Unione quindi vuol dire che il nostro comitato tecnico scientifico in qualche modo si è rapportato anche con un comitato tecnico scientifico europeo in materia di salute in alcuni in alcuni ambiti sì poi ricordiamo anche il fatto che esiste a livello europeo un'agenzia che si nell'acronimo è cdc european center for disease control che quindi fa politica di prevenzione di analisi del rischio su le varie le varie patologie che possono affliggere i cittadini europei posto che in questo caso ovviamente c'è stato anche un coordinamento con organismi internazionali e posto anche il fatto che questo virus è un virus che era sconosciuto a tutti quindi ci sono tutti trovati nella situazione di gestire qualcosa di ignoto sì però i virus ignoti noi nel corso della nostra lunghissima storia ne abbiamo avuti tanti sì non è il primo virus ignoto ripeto gli strumenti di coordinamento ci sono bisogna cercare appunto di per di permettere a questi strumenti di funzionare il meglio possibile quindi maggiore cooperazione a tutti i livelli e e poi poi ci sarà l'aspetto di gestione delle conseguenze dell'epidemia sanitaria sull'economia e ma questo è un altro ambito alessia permettimi un'altra domanda da persona curiosa ma ci sono come dire dei controllori europei che vanno nei nostri ospedali per verificare se lo standard qualitativo sia uniforme in tutti e 27 tutti i 28 paesi dell'unione europea che tu sappia allora questa è una domanda che detta così è spiazzante nel senso che da un lato c'è sempre la questione che il sistema sanitario è lasciato alla alla gestione del singolo stato membro anche perché è legato strettamente alla fiscalità la ragione è banalmente questa o delle regioni ecco esatto e quindi c'è stata questa scelta degli stati membri di non cedere la competenza in materia sanitaria a livello di unione ovviamente è certo che ci sono degli standard per quanto riguarda soprattutto i dispositivi medici o pensiamo alla circolazione ai farmaci alla circolazione sul territorio europeo dei farmaci quindi laddove si può c'è c'è integrazione è chiaro che si può fare sempre di più questo potrebbe voler dire il futuro anche rivedere in qualche modo l'assetto come sono disegnate e gestite le competenze tra unione europea e stati membri cioè se fosse necessario perché no se un domani gestire una pandemia volesse dire cedere maggiori competenze dal livello nazionale al livello europeo perché no se attualmente qualcosa si vede che non ha funzionato però generalmente l'unione detta in in criteri per la gestione delle delle varie questioni sanitarie ecco mi lasciamola lasciamola così grazie alessia grazie alessia monica da milano e buon pomeriggio e e e e e e Grazie a tutti.